Quando Dio imparò a scrivere, ho recuperato questo film ieri sera perché ne avevo sentito parlare come un portento, un film fenomenale, il miglior film Netflix da sto pensando di finirla qui di Kaufman, non sentite di cotte e di crude su questo, e quindi incuriosito ovviamente nella speranza magari di trovare un altro film dell'anno, sono andato a vederlo, beh no, non ci siamo affatto. Il regista è lo stesso di Contrattiempo, altro film che ho visto che personalmente non mi aveva fatto impazzire, per quanto anche quello fosse sul genere thriller, investigativo, ma il problema del film è che è una palla eterna, io quando ho visto la durata a 2 ore e 35, cosa dovranno raccontare in 2 ore e 35? C'è davvero un qualcosa di forte? No, infatti non c'è. Il film è davvero terribile, è un film arrogante e pretenzioso che finisce per essere un polpettone narrativo tratto da un romanzo di successo famosissimo, acclamato, amato, ecco, diciamo che si sente la differenza, si sente che è tratto da un romanzo ma non è una cosa positiva, perché la trasposizione paro paro, c'è un romanzo è diverso da un libro, con un fumetto è diverso da un film, con un fumetto è diverso da un film, in generale, quindi è questo il problema di Bath, questa sceneggiatura è un mappazzone terribile che sul serio, ad un certo punto io ho mandato davvero affanculo la pellicola, stavo per finirla, poi per chiuderla, poi l'ho continuata giusto per fare questa recensione qui. Ma in generale, come vi ho detto per me, il problema maggiore di questo film sono principalmente gli sceneggiatori che cosa ci hanno fatto, un film che proprio prima ti dice una cosa, poi te la rinnega, poi te la riconferma, poi te la metti in dubbio, non è così, non è col quadruplo colpo di scena che fai un'ottima sceneggiatura sorprendente, è una presa per il culo, anche perché gli schieramenti, le posizioni, l'idea finale è la stessa che ti viene presentata all'inizio, è chiarissimo, tu il film in dieci minuti l'hai capito, ci sono delle scene sensazionaliste, vogliono fare delle scene sborone così, con diciamo questa atmosfera horror, doppiamenti, ma il problema è che a quelli a cui piacciono non so se ci arriveranno perché si saranno già addormentati nell'ora e mezzo prima, è un film bipolarissimo che non sa che cosa voglia essere e soprattutto tutti i personaggi sono delle cazzo di macchiette. A me è ricordato tantissimo la versione femminile di qualcuno volo sul nido del cuculo in chiave crime, sarebbe potuto davvero essere interessante perché il film, come ogni film che vuole fare il pretensio, ti pone tantissimi argomenti di critica, anche sul sociale, sulla società in cui viviamo oggi, però non te ne approfondisce uno e i personaggi sono tutti delle cazzo di macchiette, tutti, principalmente dal cattivo, che è il piattume, davvero, è un film super nazifeminista, soprattutto ci sono certi discorsi che sono agghiaccianti, che si fanno all'interno della pellicola, ma in generale, per me le uniche cose che salvo sono proprio l'estetica, la fotografia non è male, l'ambientazione poteva essere sfruttata certamente meglio, personalmente siamo davanti davvero a un prodotto becero, uno dei più noiosi che ho visto quest'anno, uno di quelli che sono stati scritti peggio, e con dei personaggi terribili, mi spiace, sono sicuro che il libro, per chi ha letto il libro ed è un appassionato, avrà tutta un'altra atmosfera, ma come l'hanno posto nel film, davvero, mi pare una cagata senza paragoni, e niente signori, l'idea che oggi si conclude, qui voi fatemi sapere la vostra su questo film, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, direvi un po', chiacchieriamo, dialoghiamo, tranquilli, il terzo io su Breaking Bad arriverà, e noi ci vediamo, alla prossima, arrivederci. Grazie a tutti.